La prima cosa che si guarda solitamente sono gli occhi, se gli occhi brillano, se gli occhi trasmettono delle emozioni, della volontà, questo è un indicatore assolutamente fondamentale, poi viene tutto il resto. La cosa più importante in un curriculum, allora inizialmente bisogna essere molto precisi e quindi fare un curriculum in modo dettagliato ma corretto. Una cosa che mi entusiasma e che attira sempre sono gli hobby, quindi identificare qualcosa che incuriosisca immediatamente l'interlocutore. Nel colloquio di selezione vengono esaminate tre cose, innanzitutto le capacità emozionali, in secondo luogo le volontà della persona e in terzo luogo la parte tecnica. La domanda fondamentale è perché vuoi lavorare con noi e cosa vuoi costruire nella tua vita. Inserire un falimento nel curriculum no, ma durante il colloquio sì. Si può cadere nella vita ma soprattutto bisogna sapersi rialzare, l'importante è imparare da ogni esperienza. Sono tutti ragazzi belli, puliti, interessati alla società, alla relazione con l'altro. Sono molto emozionato, più che impressionato è emozionato perché vedere i ragazzi di questa età, con quello che si dice sulla generazione di oggi, che hanno fatto già questo, che hanno le idee chiare, che vogliono fare quasi tutti poi cose per aiutare gli altri tendenzialmente, è stata una grandissima esperienza, quindi grazie alla scuola di politica per darci questa opportunità.